ben trovati amici alla rassegna stampa di fano tv oggi è venerdì 6 maggio 2022 vedremo come il tempo è cambiato su tutta la regione ci sono tante notizie oggi che vengono evidenziate dai giornali e noi partiamo come sempre con il sfogliare il libro dei santi e vediamo che oggi si festeggia san pietro nolasco ci sono tanti tanti santi di cui si sa poco e probabilmente san piero nolasco è uno di questi nacque da una nobile famiglia a recode una città nei pressi di carcassonne in francia era presso a poco il 1100 anzi alla fine del 1100 il 1189 fu precettore del figlio del conte di monteforte impegnato nella crociata contro gli albigesi fondò l'ordine di santa maria della mercede per la redenzione degli schiavi ecco questo fu un obiettivo che san pietro nolasco perseguì per tutta la sua vita ancora nel dodicesimo secolo ancora c'erano gli schiavi sia in europa che in africa e grazie a lui e grazie al suo movimento molti ne furono liberati sia per quanto riguarda le corti europee che per quanto riguarda l'africa quindi un esempio da imitare perché una forma magari subdola di schiavitù e non tanto subdola persiste ancora oggi veniamo alle previsioni del tempo ecco la grafica è il tempo sta cambiando sta cambiando perché sta arrivando del maltempo sulle marche con cieli prevalentemente coperti e piogge anche a carattere di rovescio abbiamo le massime le temperature massime che scendono rispetto a quelle di ieri dai 21 scenderanno sui 17 18 gradi le minime si attesteranno su 14 gradi i 20 ispireranno sulle coste da una direzione di est sud est mentre nell'interno verranno dall'oriente ovvero da est le temperature dunque sono in calo apriamo il giornale oggi a partire dal corriere adriatico dove vediamo che si evidenzia una bella iniziativa è la città da giocare la città da giocare è un'iniziativa che è stata così ideata dal laboratorio città dei bambini tanto tanto tempo fa in passato relegata soltanto ad una giornata che si svolgeva chiudendo Viale Gramsci al traffico ed era un'iniziativa importante dato che su Viale Gramsci scorre la nazionale la statale adriatica per dedicare per regalare spazio importante ai bambini era un segno di attenzione particolarmente evidente ma quest'anno l'iniziativa si ampia si amplia nel tempo si amplia nello spazio si amplia nel tempo perché occuperà tutto il mese di maggio e non solo una giornata ed occuperà molto spazio perché verrà fatta propria da tanti quartieri e quindi sarà un'iniziativa anche decentrata dopo l'inaugurazione del parco di Rosciano che si può considerare un'anteprima della città da giocare vediamo che il primo appuntamento è stato fissato domenica prossima alle 15.30 in piazza dell'unità d'Italia nel quartiere di Poderino ci saranno tante iniziative, tanti giochi, tante associazioni che collaboreranno a questa iniziativa per la gioia di tanti bambini e ovviamente anche di tante famiglie speriamo che il tempo ci aiuti e poi gli altri appuntamenti gli altri appuntamenti dal 15 maggio subentrerà il quartiere di Centinerola che invita tutti i bambini dalle 14.30 alle 19 ad intervenire nel parco di via Monfalcone e anche qui giochi, merende, escursioni, passeggiate per il quartiere, per il circondario il 27 maggio la festa si sposterà nel parco di Bellocchi dove tra l'altro si terrà un concerto degli allunni che frequentano la scuola elementare a tempo pieno di Fabio Tombari, la scuola di Bellocchi e poi un giorno dopo all'Anfiteatro Rastat altro concerto di una scuola tra le note poi domenica 29 dalle 15.30 alle 19.30 si svolgerà la classica iniziativa della città da giocare su Viale Gramsci e qui saranno più di 50 associazioni e società sportive laboratoriche intratterranno i bambini con i loro giochi ma non è finita qui, non è finita qui perché poi il 2 giugno la festa si sposterà nel quartiere di Sant'Orso dalle 16 alle 19 e qui insomma si replicherà un po' quel clima di festa che ha caratterizzato la giornata di Halloween nel novembre scorso un'iniziativa che è particolarmente riuscita con tutta la sicurezza nel quartiere di Sant'Orso e parlando di sicurezza non è una questione da trascurare, è una questione importante e anche qui avremo tante iniziative sportive, abbiamo una bellissima caccia al tesoro e poi iniziative che riguardano sia i bambini che riguardano le famiglie quindi appuntamento il mese di maggio per i bambini, un mese da giocare vediamo le altre notizie, un'altra apertura sulla seconda pagina del Corriere Adiatico è dedicata alle asfaltature solo a Fano le asfaltature sono ferme siamo sfortunati o c'è qualcosa che non va? interroga il giornale la Filt CGL critica il Comune per i disagi di conducenti di autobus e di passeggeri e sono gli autisti del trasporto pubblico iscritti al sindacato che elevano la loro protesta anche perché insomma percorrere certe strade in maniera così disagevole non è certo una cosa bella per tutti, né per gli autisti né per i passeggeri un esempio significativo è quello evidenziato dal giornale in Via del Fiume, una strada veramente costellata di buchi dove transitare significa sobbalzare continuamente e poi abbiamo una notizia di cronaca a fondo pagina del Corriere Adriatico picchia la moglie e il figlio gli sono stati combinati due anni di carcere reclusione comunque sospesa e patto che il 38enne che è stato appunto riconosciuto colpevole frequenti un centro antiviolenza si tratta di un cingalese che aveva così malmenato la moglie anche in presenza del figlio e anche il figlio era stato oggetto delle violenze del padre lo aveva alzato e fatto cadere violentemente a terra il piccolo aveva sbattuto anche la testa insomma è stato condannato a due anni di reclusione con la pena sospesa un'altra apertura che riguarda Fano sul Corriere Adriatico riguarda le prossime assunzioni in comune 20 assunzioni in comune è un fatto straordinario perché il comune non è che assume tutti i giorni anzi è in grave carenza di organico però l'organico è ancora carente tanto che è difficile per gli stessi dipendenti del comune organizzare le assunzioni effettuare tutte le operazioni preliminari per assumere altro personale veramente siamo all'eccesso delle penalizzazioni delle situazioni che non vanno e a Fano comunque si cerca di rafforzare soprattutto gli uffici tecnici e a luglio saranno le procedure per tre dirigenti tre dirigenti sulle figure apicali dell'organico comunale ed ora passiamo a Fossombrone dove si parla e non si può fare diversamente del trionfo del Carnevale una iniziativa importante che si svolge in questi giorni nella città metaurense il sindaco Berloni ringrazia gli organizzatori alle 19.30 ci sarà oggi la sfilata rinascimentale sperando nel baltè del bel tempo e il sindaco Berloni evidenzia la sua grande emozione di vedere tanti ragazzi al lavoro da settimane per preparare tutto al meglio insomma se non ci fossero se non ci fossero i volontari se non ci fossero i giovani a organizzare questa bella iniziativa insomma non si andrebbe molto molto lontano comunque il programma di questa sera è questo alle 19.00 c'è la festa in corso Garibaldi di Rioni, Borghi, Ville e Castelli del Contado di Fossombrone alle 19.30 la sfilata rinascimentale con il gruppo dei Tamborini e delle Chiarine alle 20.00 il Paglio dei Bambini in Viale della Repubblica alle 22.00 i quartieri si sfideranno nel gioco dei Biroci insomma tante iniziative curiose ma soprattutto è la coreografia al generale che attirerà l'interesse del pubblico e evidenzierà la bellezza di questa manifestazione passiamo a San Lorenzo in Campo dove il sindaco Dell'Onti annuncia ancora la gratuità dell'occupazione del suolo pubblico per gli operatori del commercio per altri tre mesi e la misura del sindaco per tutti gli esercenti e ulteriori sgravi sino a fine anno ebbene a San Lorenzo in Campo l'occupazione del suolo pubblico è gratis in altre località come a Fano si paga e poi vedremo un altro articolo pubblicato dal resto del Carlino per quanto riguarda anzi ve lo faccio vedere subito e questo la foto largo al suolo pubblico ma a pagamento proseguirà anche quest'anno il progetto che nel periodo Covid ha permesso alle attività economiche della città di espandersi all'esterno però comunque quest'anno è a pagamento il Comune comunque non è stato così esoso perché poi questo incasso verrà impiegato per finanziare quelle attività economiche che non possono ampliarsi perché la loro attività non lo permette ma che hanno subito ugualmente i rigori della crisi e quindi anche loro con l'incasso che verrà ottenuto appunto dall'espansione dell'occupazione del suolo pubblico per chi può farlo bar, ristoranti eccetera potrà finanziare anche queste ulteriori attività l'assessore Lucarelli ha dichiarato servile in buon senso un comportamento consono alla bellezza della città perché vedere poi una città con i tavolini in aperto viva colorita effervescente è un'attrazione turistica anche questo ma continuiamo la nostra segna stampa sul Corriere Adriatico e passiamo alla pagina di Senigallia dove vediamo che in spiaggia debutta la vigilanza privata le notti blindate tra Molo e Ponte Rosso questa è la zona che sarà sorvegliata sarà sorvegliata dagli addetti alla security negli stabilimenti balneari nel centro dell'incontro tra la CGA e il Consorzio è il tema che è stato dibattuto nell'ambito di questo incontro un servizio di security notturno unico per gli stabilimenti balneari tra il Moro e il Ponte Rosso questo appunto è stato discusso in questa iniziativa è stata una riunione tecnica che parte dalle esigenze che alcuni associati hanno manifestato nel tratto centrale appunto per la sicurezza si tratta di atti vandalici che anche nei giorni scorsi si sono verificati a parte tutti quelli che sono accaduti nella precedente stagione vediamo il Ponte compreso tra il primo maggio e San Paolino si è concluso senza problemi da questo punto di vista ma già nelle settimane precedenti c'erano stati atti vandalici appunto lo evidenzia il giornale un'altra notizia su Senigallia è quella di una donazione donazione di organi si tratta di fegato e reni e sono stati dati a tre persone sono stati spiantati da una donna morta a Senigallia e appunto queste tre persone vivranno grazie a quanto hanno deciso i parenti appunto della defunta l'espianto è avvenuto nel ospedale Principe di Piemonte un prelievo di organi durato sei ore coordinato dal centro tra pianti la direttrice Cristina Scala dice ringraziamo i familiari per il gesto di grande altruismo veniamo ora sulla pagina regionale dove ci sono anzi due pagine due pagine pubblicate dal Corriere Adriatico questa è una e questa è un'altra ecco la vedete qui comunque vi leggo il titolo che le sintetizza entrambe nuovi ospedali ai raggi X Fermo e Amandola ok sprint per Salesi e Inca non è menzionati non sono menzionati gli ospedali della nostra provincia ma un articolo appunto li evidenzia ed è un articolo di spalla per i nuovi ospedali di Pesaro oltre quelli di Macerata e San Benedetto i cantieri sono ancora lontani e si corre però a velocità diverse Pesaro si è deciso di confermare il sito della realizzazione come noto quello di Muraglia al posto di case bruciate abbandonata la strada del project financing si è optato per la costruzione del nuovo ospedale con risorse della regione 150 milioni ed è il più grande finanziamento lo ha detto anche a Quaroli al consiglio comunale di Pesaro proprio l'altro giorno il più grande finanziamento è stato attuato dalla regione per un ospedale è stato poi inviato dalla regione un secondo accordo di programma per la soluzione delle interferenze di competenza degli enti e per il trasferimento delle strutture attualmente presenti nell'area di Muraglia entro il 30 settembre del 2024 così da permettere il successivo avvio dei lavori appunto oltre quindi si andrà nel 2025 e 2026 insomma ancora c'è tempo per avere il nuovo ospedale il cui costo come abbiamo detto si aggira sui 150 milioni interamente finanziati dalla regione passiamo poi alla pagina di Pesaro dove si dibatte gli spazi degli ombrelloni tra quello che i concessionari vogliono concedere ai clienti stanziali e quello invece che gli albergatori vorrebbe fosse concesso anche ai turisti e coloro che vengono in spiaggia per passare qualche giornata di relax per riservare un posto in spiaggia al turista verrà la regola del 3 intitola l'articolo raggiungere un accordo insomma non è mai facile perché sono due esigenze diverse tra albergatori e concessionari per ombrelloni e lettini da spalmare tra stanziali e vacanzieri e questo è un po' il dilemma di ogni estate nodo strettamente connesso alla questione ripascimenti perché poi più spiaggia c'è e più ombrelloni ci sono da poter utilizzare per uno scopo o per l'altro nella pratica significa che prendendo come per esempio lo stabilimento diciamo un numero X di riferimento per un hotel l'albergatore potrà indirizzare i turisti nei tre stabilimenti che lo precedono e nei tre bagni che lo seguono questo è un po' l'accordo ecco perché varrà la regola del tre questo è un po' l'accordo che è stato raggiunto tra le due parti insomma c'è uno stabilimento che prende di regola l'albergatore e quindi potrà spalmare i suoi clienti nei tre accanto oppure nei tre accanto dall'altra parte insomma questo è un po' l'accordo che è stato raggiunto e poi si parla di bandiera blu perché tra poco ci sarà il risponso della concessione di questi vessilli che evidenziano i siti di maggiore qualità ambientale bandiera blu Baia Flaminia spera nel ritorno del vessillo per l'ARPAM nei punti di prelievo la qualità dell'acqua è eccellente la bandiera blu di Pesaro è ormai diventata maggiorenne il prossimo 10 maggio ci sarà l'assegnazione dei vessilli in videoconferenza Pesaro è stata invitata a partecipare così come sono stati invitati a partecipare segno che la bandiera verrà riconsegnata Fano Gabice Marotta Mondolfo Pesaro dovrebbe confermare la certificazione così come l'ha ottenuta negli ultimi anni e poi vediamo per i tratti di Viale Trieste Ponente Levante Sottomonte resta però aperta l'incognita di Baia Flaminia e questo è un po' l'obiettivo che i pesaresi tentano di raggiungere per qualificare ulteriormente in maniera formale le loro spiagge direzione da rinnovare Petrucci ora pone il tema è una direzione che si riferisce alla gestione di Marche Nord dell'ospedale Marche Nord e Petrucci è il sindaco di Monbaroccio all'indomani del consiglio monografico che si è svolto sulla sanità a Pesaro con la presenza del presidente Acquaroli il sindaco di Monbaroccio pone chiaramente la questione del rinnovamento della direzione generale di Marche Nord che fa capo dal 2015 a Maria Capalbo sull'eco delle voci di una possibile sua conferma alla guida del nuovo assetto organizzativo insomma si crede si pensa che la direzione venga confermata comunque Petrucci fa una ricognizione per quanto riguarda tutti gli aspetti critici che fanno parte della gestione di Marche Nord per la prolungata fuga dei medici tra i quali alcuni primari molto qualificati e per l'aumento soprattutto della mobilità passiva dei pazienti verso la Romagna e poi c'è il caso Gnudi che ha lasciato il segno insomma il caso Gnudi poi vedremo che suscita ancora dibattito perché quello che è stato fatto nei confronti di questo primario che ha avuto il coraggio di evidenziare un po' la situazione critica del suo pronto soccorso poi è stato penalizzato con la necessità di costringerlo a non rinnovare il suo rapporto di lavoro la pensione è bassa per molti molti pesaresi per due su tre siamo al di sotto di 750 euro e per molti si sfiora la soglia della povertà è una ricerca questa che ha fatto insomma però si sapeva come era la situazione è una ricerca che è frutto di uno studio della CGL Marche IRS CGL Marche sulla base dei dati forniti dall'Inps nel settore privato sono 117 mila le prestazioni erogate dall'Inps nel pesarese l'importo medio però è inferiore a livello nazionale ma è un pochino più alto rispetto a quello della regione pensate la regione a che punto basso è precipitata rispetto alla media nazionale insomma veramente siamo agli sgoccioli ancora cronaca ancora cronaca sul Corriere Adriatico rubare Leggings costa caro condannata a tre anni e quattro mesi soprattutto perché questa rumena che era stata sorpresa a rubare t-shirt Leggings e scarpe Puma aveva reagito offendendo offendendo i carabinieri che l'avevano tratta in arresto soprattutto il proprietario del supermercato dicendo minacciandolo dicendo che poi altri suoi dieci amici avrebbero fatto piazza pulita di tutti i prodotti che erano contenuti appunto nel negozio e il giudice è stato piuttosto severo poi abbiamo un'altra notizia di cronaca sabota l'auto della moglie per impedirle di lavorare una pena pesante per il marito sospettoso e troppo violento si tratta di un 44enne moldavo residente a Pesaro accusato di maltrattamenti e lesioni nei confronti della moglie convivente che aveva 40 anni addirittura dagli insulti dalle botte per la gelosia era arrivato ad assabotare l'auto della moglie e avrebbe staccato i cavetti della batteria per impedirle persino di recarsi al lavoro insomma veramente episodi dequalificanti ed ora passiamo al resto del Carlino vediamo che l'apertura è dedicata alla città da giocare via le auto dalle strade la città torna ai piccoli fino al 2 giugno sei appuntamenti nei quartieri niente traffico e solo giochi fanno conferma la sua vocazione della città dei bambini l'assessore Brunori ha dichiarato l'assessore Brunori ha presentato ieri questa iniziativa nella sala della concordia della residenza municipale ha dichiarato dal prossimo anno saranno coinvolte anche altri quartieri anche altre zone e molte hanno delle opportunità e delle forze delle appunto delle forze associative per organizzare queste manifestazioni e qui poi invece si parla dei problemi di un quartiere di per sé molto molto problematico il quartiere Lebrecce il quartiere Lebrecce è isolato da tutto i grillini lanciano un appello il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle che ha presentato un'interrogazione in consiglio comunale sarà discussa nelle prossime sedute per quanto riguarda la situazione del quartiere Lebrecce con il passaggio a livello che è stato soppresso e doveva essere sostituito da un sottopassaggio mai realizzato al suo posto è stato realizzato un cavalco a ferrovia con una pista ciclabile la cui pendenza è altamente faticosa da superare e poi abbiamo la strada delle barche promessa e mai realizzata una ex pista dei go-kart lasciata all'abbandono così come la montagnola insomma una situazione in degrado e pensate siamo praticamente sulla spiaggia è un'area ancora in cold un'area ancora non abitata che potrebbe essere utilizzata a livello turistico in maniera molto molto proficua passiamo poi alle altre notizie verso il Maxipolo Museale della Val Cesano è un'iniziativa che vede la collaborazione di due comuni il comune di San Costanzo e il comune di Mondolfo creare un grande polo culturale attrarre attrarre l'interesse a livello regionale e nazionale che risalti diciamo meglio dal complesso monumentale di Sant'Agostino di Mondolfo e di Palazzo Cazzi di San Costanzo due monumenti importanti del nostro entroterra ed è questo l'obiettivo congiunto delle due amministrazioni che nei rispettivi consigli comunali hanno provato uno schema di convenzione per la realizzazione di un unico progetto che coinvolge appunto queste due emergenze culturali intitolato Arte e Cultura nella Valle del Cesano e ottenere così un congruo finanziamento dallo Stato per 970.000 euro attraverso uno specifico bando del PNRR ed è proprio il caso di dire che in questa situazione l'Unione fa la forza Guardie Mediche Incastro Pergola e Mondavio stavolta è nettamente favorito il presidio di Pergola un disagio maggiore per i residenti del Val Cesano insomma Pergola questa volta fa la parte del Leone infatti potrà contare sulla presenza del medico 25 volte su 34 ovvero per il 73,5% contro le 14 volte 41% di Mondavio anche per questo mese di maggio come è successo ad aprile viste le difficoltà di disporre del necessario personale delle necessarie figure professionali l'area vasta ha adottato il sistema di incastrare tra loro le guardie mediche tra Pergola e Mondavio abbiamo visto come Pergola questa volta farà la parte del Leone e ancora ad Urbino Federico convegno sui mecenati di oggi è un'iniziativa del Rotary Club di Urbino che ha organizzato per domani alle ore 9 nell'aula magna di Palazzo Battiferri in Via Safi il forum dal mecenatismo di Federico al mecenatismo contemporaneo insomma due aspetti temporali che hanno un po' la stessa natura quello di finanziare iniziative di interesse pubblico da parte del privato che appunto risaliva ai tempi del conte del Duca Federico Aule chiuse Paolini attacca i burocrati Paolini come sappiamo è il presidente della provincia Giuseppe Paolini il quale interviene appunto sul fatto che diversi comuni dell'entroterra vengono privati delle loro scuole inaccettabile la scelta ha detto Paolini di non riaprire le elementari di Borgo Pace e di Monte Grimano terme dignità soprattutto per questi bambini e nelle due fotografie vediamo i rispettivi sindaci il sindaco di Borgo Pace Romina Pierantoni davanti alla scuola elementare che appunto verrà soppressa e qua il sindaco Elia Rossi sindaco di Monte Grimano al presidente Mattarella bene ha fatto il sindaco Pierantoni a rivolgersi al capo dello Stato contro l'abbandono dei piccoli comuni ha detto appunto Paolini a questo punto abbiamo terminato la nostra rassegna stampa abbiamo fatto una sintesi dei giornali per cui non mi rimane che salutarvi darvi appuntamento a domani alle ore 7 per le notizie del giorno alle ore 20 e 30 di questa sera nel Tg Occhio alla Notizia su Fano TV e questo è tutto a risentirci un tiguto di osse 65 o o 62 o 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 Grazie.